Con il presidente del Civitavecchia, Patrizio Presutti, parliamo proprio del momento del Civitavecchia. Possiamo parlare di momento esaltante o ottimo momento, visto che comunque nel girone di ritorno avete ottenuto tutte vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta. Ma sì, sicuramente è un buon momento, ma non ci montiamo la testa, rimaniamo con i piedi ben saldi a terra. Non ci sentivamo delle pippe, tra virgolette, come qualcuno pensava un mese fa e non ci sentiamo dei fenomeni adesso. Ragioniamo partita dopo partita, come abbiamo detto all'inizio dell'anno. Sicuramente siamo felici dei risultati che abbiamo ottenuto. Adesso arriva la Vigor per Conti, che al contrario vostro nel girone di ritorno ancora non ha mai vinto. Però che insidia nasconde questa partita? Si può dire che è una di quelle partite dove il Civitavecchia ha tutto da perdere? Ma sì, in questo momento sono le partite più difficili da affrontare, le squadre che sono sotto e cercano punti per la salvezza. In questo momento sono osti, che abbiamo visto domenica la domenica precedente con il Sinti Agenzano. Sicuramente andremo a fare la nostra gara tranquilli, cercando i tre punti come sempre. Ci decchia crede ai play-off? Ci decchia crede di raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi sicuramente ci divertiamo. Vinceremo il campionato! Come dice Ruggero, vincete il campionato. Lo spero per loro.